Allora, prima di chiudere con l'esercizio e passare ad altro, volevo farvi notare una cosa che mi è stata fatta notare durante la pausa e ha senso mostrarla a tutti. Allora, noi sappiamo che POST è un dizionario Python, giusto? Ci risulta? Era un array, una lista di dizionari, quindi è un dizionario Python. E in Python non si accedono alle chiavi in questo modo di un dizionario. Se scrivete dizionario.nome della chiave vi dà errore, giusto? Come si accedono alle valori di un dizionario in Python? Non col punto, perché vi dà errore, che è questo. Con le quadre, mettendo poi il nome della chiave, tra virgolette, oppure? C'è un modo safe, che è? C'è un modo più safe rispetto alle quadre. Le quadre, se la chiave non esiste, vi dà errore con le quadre. Get, sì. Get, aperta e chiusa a quadra, è il valore della chiave, che invece vi restituisce un valore pulito, anche se non ci fosse, vi restituisce none o addirittura un valore che scegliete voi. Quindi, dipende come lo configurate. Quindi, questo post.title non è valido in Python normale. Se voi scrivete for post in post print post.title, abbiamo visto durante la pausa che vi dà errore proprio. Vi dice che non esiste un punto title all'interno di un dizionario. Invece c'è, perché è una chiave. Quindi questo è flask, anzi, questo è jinja, che vi permette di scrivere anche così. Non solo così. Potete anche scrivere, se volete essere più familiari con quello che scrivereste in Python, in questo modo. Post, aperta quadra, aperta virgoletta, nome della chiave, chiusa virgoletta. In questa sintassi, dovete anche però notare che questo title deve essere una keyword Python valida. Un valore di attributo valido. Quindi, se la vostra chiave si chiama nome meno persona, qui non potete scrivere nome meno persona. Perché non potreste chiamare una variabile in questo modo. Quindi, in questo caso specifico, dovreste comunque utilizzare le parentesi quadre. Quello è uno shortcut che ci dà jinja, nel caso volessimo invece accedere a un dizionario in questo modo. Quindi, con non post.title. Quindi, è una cosa in più rispetto a quella che potremmo fare in Python tradizionale, diciamo, fuori da jinja. E, giusto per completezza, questa è esattamente una delle sintassi possibili in JavaScript per accedere ai dizionari. Quindi, magari anche per quello l'hanno adottata. Però, in Python non è... In Python tradizionale, in Python normale, questo non è valido, non è corretto. Quindi, ripeto, se anche qui volete usare un Python che è... Se siete comodi così, va bene, però ricordatevi che se lo scriveste in Python, dovesse scrivere post, aperta quadra, aperte virgolette, nome della chiave, oppure post.get, aperte virgolette, nome della chiave. E che questo funziona solo se quello che c'è dopo il punto è un valore nome valido. Ok? Bene, con questo... Passiamo al prossimo argomento che ci terrò occupato per un po' e quindi che inizieremo solo oggi che sono i form e le sessioni, ma per ora i form. Allora, che cos'è un form? Che cos'è un form? E' una pagina in cui puoi compilare con un'applicazione di lavoro? E' una pagina, o un pezzo di una pagina in cui le persone che usano un sito, un'applicazione web può compilare per inserire delle informazioni che verranno poi auspicabilmente salvate. o possono essere anche mandate? Tipo? Su un server? Sì, vengono salvate da qualche parte su un server, certamente. Quindi, un form è HTML ma lo facciamo oggi che abbiamo già introdotto il server perché un form senza la parte poi di invio delle informazioni a un server è un po' povero non fa un granché. Allora, oggi iniziamo a parlare del form lato HTML cosa possiamo fare in un form HTML e poi prossima volta probabilmente vedremo come prendere le informazioni che c'erano da un form e utilizzarle dentro Flask. quindi è un qualcosa che sta per cui servono entrambe le parti per cui serve il client per cui serve il server ed è il meccanismo principale se voi pensate che ci permette di inserire informazioni di avere interattività inserire informazioni dentro una pagina finora tutto quello che abbiamo fatto in una pagina è leggere cliccare su qualcosa di già precostituito ma se vogliamo dire qual è il nostro nome o qual è la nostra età o impostare delle preferenze non possiamo farlo con quello che abbiamo visto finora mentre possiamo farlo con i form ora come si definisce un form in HTML quindi qui stiamo tornando ripeto su HTML allora un form si definisce con il tag form tag che ha può avere class può avere id come attributi esattamente come ogni altro elemento HTML ma ha due attributi specifici per il form che sono action e method action indica la URL a cui il form va inviato quindi a cui le informazioni all'interno del form vanno poi inviate per elaborazione per salvataggio per quello che serve e method è il metodo HTTP con cui si invia un form di default se method non è messo di default method va a get quindi invia un form con una richiesta get in una richiesta get in una richiesta get un form metterebbe tutte le sue informazioni in questa barra quindi se noi sottomettiamo un form con una get un form che ci chiede nome cognome indirizzo e quant'altro e lo mandiamo all'indirizzo facciamo un esempio 127.0.01 slash facciamo login per esempio e username e password lui ci scriverebbe se mandassimo un form con una get un qualcosa del genere quindi si vedrebbe in maniera chiara qual è lo username della persona e qual è la password della persona quindi inserendo le informazioni di un form direttamente come abbiamo visto l'altra volta come parametri sulla url quindi punto di domanda il primo parametro uguale il suo contenuto e commerciale il secondo e se noi ne avessimo 15 parametri ovviamente andremo avanti qui finché non li completiamo tutti e 15 da questo possiamo dedurre che opzione a è un'ottima idea usare get come metodo di sottomissione del form opzione b no non lo è non lo è bene ricordatevelo quindi questo è il default ma dato che il default ha questo effetto collaterale che stampa tutto nella barra degli indirizzi del browser tipicamente un form viene sottomesso o con un metodo post come in questo esempio o con un metodo put di conseguenza quando noi avremo in flasco qualcosa che riceve questa url dovrà riceverla a fronte di una chiamata post o di una chiamata put in base a quello che scriviamo all'interno del metodo del form all'interno del form poi si può inserire contenuto html normale come abbiamo inserito finora paragrafi header qualunque contenuto html che abbiamo visto finora più i controlli specifici che si possono utilizzare dentro un form cioè una serie di elementi che permettono appunto di inserire informazioni quindi mentre i vari p h1 h2 img eccetera permettono di vedere informazioni questi controlli del form permettono di inserire informazioni e sono divisi in categorie di controllo come input selezione e bottone e elementi di supporto a queste categorie di controllo come le etichette come le label che quindi vanno usate in congiunzione con le categorie di controllo ma non servono direttamente per inserire informazioni ora adesso andiamo a vederli praticamente tutti molti se non tutti avrete ben presente cosa sono input input è un campo di testo breve per cui è un tag che si chiama input che ha alcuni attributi o alcuni opzionali altri no e ovviamente questo in questa questa linea di codice produce in html questo input qui allora input dice prima di tutto partiamo da in fondo dice che c'è un placeholder che è your username che non è quello renderizzato qua quindi questo vuol dire che qui invece di your first name dovreste vedere your username se eseguite se mettete in una pagina html questo input quindi questo è quello che appare prima che le persone scrivano in un campo di input come suggerimento a quello che si vuole inserire in quell'input a un input in genere associato a un'etichetta che dice inserisci il tuo utente dopodiché c'è un nome che in questo caso potrebbe essere first name potrebbe essere username probabilmente per essere più corretto e poi c'è il tipo del campo di input che può essere varie cose e che poi permette anche di verificare che cosa c'è dentro un campo di input in questo caso ci dice ammetti del testo quindi caratteri numeri qualunque cosa che sia un testo ma non un file per esempio perché un file non è un testo e ci sono un certo numero di input di tipi validi per l'input tra cui testo tra cui numero che quindi permetterà l'inserimento di numeri e vi farà comparire le freccettine per aumentare e diminuire il numero al lato dell'input password quale sarà l'effetto di avere un input di tipo password un effetto visivo che quando voi scrivete compaiono i puntini nascosti quindi è testo ma è nascosto quindi tipo password e data o mese data quale sarà l'effetto di avere un input di data esatto si vedono o le stanghette oppure c'è un link per far comparire il calendario esatto button è per utilizzare un input come un bottone quindi per far apparire un input come un bottone eccetera qui ci sono degli esempi per esempio file cosa serve secondo voi un input di tipo file per caricare un file per far l'upload di un file quindi l'input in quel caso cambia drasticamente diventa un bottone con scritto scegli un file per permettere e poi apre la finestra del sistema operativo in cui selezionare un file sul computer sul computer del client adesso fatemelo sottolineare noi a un certo punto avremo i form client e i server sullo stesso computer ma questo input è quello che apre un file sul computer della persona a casa sua che apre la vostra applicazione web che sta invece sul computer diverso quindi c'è poi un trasferimento di documenti di file dal suo computer al vostro dove giri il server adesso noi faremo girare tutto su un unico computer quindi questa differenza dobbiamo solo ricordarcela non potremo vederla un input di tipo color ci permetterà invece di selezionare i colori e un input di tipo checkbox trasformerà l'input in una checkbox quindi per la selezione multipla e come potete vedere qui alcuni di questi input esistono da sempre per esempio file o per esempio testo o bottone altri o password in realtà altri esistono da HTML5 quindi il colore la data eccetera è un qualcosa che è stato introdotto con HTML5 quindi ormai è ampiamente utilizzato ma da un certo punto in giù non esistevano tra cui da notare l'input button perché poi HTML5 ha introdotto un tag che si chiama button e non hanno cancellato questo per motivi di retrocompatibilità però adesso abbiamo un input type button che renderizza un bottone e un tag button che renderizza un bottone altri tipi radio quindi il bottone da selezionare circolare range se volete una barra da un range da definire quindi una slide bar i bottoni di submit e di reset che possono essere che sono bottoni quindi possono essere input oppure no e così via il cerca c'è un input per il telefono uno per la url uno per la settimana esattamente come è quello per il mese eccetera e anche in questo caso alcuni esistono solo da HTML5 come per esempio quello della della barra per scegliere un range o quello per il telefono per esempio secondo voi sempre cosa fa un input di tipo telefono quando ci clicco sopra su un desktop su un desktop non farebbe un granché probabilmente ma su uno smartphone aprirebbe la tastiera solo numerica del telefono solo numerica sapete che nello smartphone ogni tanto vedete la tastiera incompleta la tastiera solo numerica un input telefono farebbe partire automaticamente la tastiera solo con i numeri per digitare un numero perché è un telefono questo è un input che c'è anche lui da HTML5 quindi questi sono tutti input con tipi diversi una parola sulla differenza tra un radio button e una checkbox che sono due tipi di input ovviamente quando si usa una radio avete delle opzioni da far scegliere delle persone in un form opzione 1 2 3 4 quando usate un radio button e quando usate una checkbox si ci sono n mila siti che non rispettano questo ma questo è la cosa giusta ma questa è la cosa giusta incluso è incluso il politecnico ovviamente perché? è vero ho le prove se vuoi ho uno screenshot che ho usato la settimana scorsa a un altro corso che faccio che proprio faceva vedere questo quindi quindi sì le checkbox sono per selezioni multiple e le radio sono invece per selezioni singole quindi se avete quale di queste opzioni scegli una di queste opzioni se usa la radio se una radio button se invece prendi tre di queste opzioni se usa una checkbox e cose del tipo che è quello che capitava nell'esempio di cui vi mi riferivo prima cose del tipo quale di queste cose sono capitate non lo so l'aula era illuminata l'aula era fredda l'aula era calda nessuno delle precedenti ovviamente non va bene come checkbox e quelle sono due domande diverse perché non posso avere l'aula era fredda e nessuna delle precedenti in contemporanea no quali problemi hai avuto l'aula era fredda l'aula era calda nessuno io con una checkbox posso dire nessuno e l'aula era calda e l'aula era fredda allora o è nessuno o ho un altro tipo di problema lì sono due domande diverse ma quello in quel caso non si può usare una checkbox si può usare hai avuto un problema sì no e se la risposta è sì allora a quel punto c'è la checkbox ok questo è il type ci sono anche altri attributi che si applicano solo ad alcuni in alcuni casi si applicano solo ad alcuni input in altri casi invece sono validi per tutti per esempio adesso non stiamo a leggerli tutti ma required cosa dice required? un attributo che si chiama required quindi input text input type text name nome required cosa dice? che è obbligatorio e quindi comparerà l'asterisco rosso a fianco all'input quindi html renderizza direttamente l'asterisco rosso e size la dimensione in pixel o in caratteri l'autocomplete è un attributo che fa partire l'autocomplete del browser se disponibile quindi l'autofill disabled ho un campo input ma non posso scriverci non posso selezionarlo è disattivato è grigio read only posso solo leggere quindi lo vedo ma non posso scrivergli non è disattivato è solo è attivo posso selezionarlo posso fare copia ma non posso scrivere dentro e checked è un attributo che dice quale tra il radio button e il checkbox in una lista è quello attivo simile alla classe active che abbiamo visto poco fa che abbiamo usato poco fa questo è l'attributo checked che dice questo è quello già preselezionato di default che sia un radio che sia un checkbox non ha senso su un input testuale ovviamente e value è invece l'attributo che ci dà il valore inserito dalla persona nel campo input quindi non è un valore che noi è un valore che noi possiamo definire se vogliamo precompilare un campo quindi input text input type text value Luigi quel campo sarà precompilato con quella stringa altrimenti è il campo che utilizziamo per leggere il valore inserito dalla persona a un certo punto dopodiché ci sono altri attributi che dipendono dal tipo di controllo per esempio number ha un attributo minimo e massimo che impediscono che automaticamente non che impediscono in certi casi impediscono ma in altri casi avvertono se tu hai inserito un valore che è fuori dal range quindi se tu vuoi l'età di una persona di un maggiorenne l'età dovrà essere minore di maggiore di 18 perché se no non è maggiorenne maggiore uguale di 18 e in questo slide dice non più grande di 110 quindi se uno ha 111 anni non può compilare questo form ma in ogni caso e uno potrebbe usare solo il minimo solo il massimo non bisogna usarli per forza obbligatori e se uno invece volesse rimanere più ampio sull'età uno potrebbe dire l'età beh qual è l'unico numero dell'età che non è valido indipendentemente dalla durata della vita di una persona quelli negativi e poi zero a un anno per compilare un form almeno o a qualche mese comunque zero proprio quindi uno potrebbe avere un minimo uno per esempio il testo può anche definire dei pattern di utilizzo ovviamente non il numero e l'input file può definire quale estensione di file si accettano attraverso l'attributo accept che accetta una o più estensioni di file separati da virgola quindi in questo caso accetterebbe le immagini di formato jpeg png e jpeg scritto con la e anche questo vuol dire che quando voi schiacciate su seleziona un file lui apre la finestra automaticamente apre la finestra del sistema operativo in cui vi fa selezionare file e vi fa vedere o vi disattiva vi fa vedere i file che sono solo jpeg o png o vi disattiva i file che non lo sono dipende poi dell'implementazione specifica però accetta solo quelli quindi se voi caricate o riuscite a caricare un pdf il form vi dice no allo stesso modo in cui vi direbbe no se qui mettete un'età di 5 e non di 18 di non di almeno 18 quindi una validazione sulle informazioni che vengono inserite in un form questo perché il form è fatto ovviamente per richiedere informazioni alle persone e in molti casi ne vogliamo richiedere informazioni specifiche alle persone e vogliamo che siano corrette quelle informazioni per cui se io chiedo la data di nascita non posso accettare ciao come risposta se io da quella data di nascita devo fare poi dei conti devo vedere se una persona è maggiorenne se una persona è nata in una certa età ed è millennia generazione z o eccetera ho bisogno che quella data sia giusta corretta formattata in maniera corretta quindi devo controllare che cosa devo fare minimo e massimo si applicano anche in realtà all'input di testo mi sembra si chiamano min-length e max-length ed indicano la lunghezza minima e massima di un campo di testo quindi se mai è capitato di andare in un form che dice la password deve essere almeno lunga 8 caratteri ecco quello è un min se ne scrivete 7 non rispettate questa validazione che il browser fa e quindi di conseguenza non potete andare avanti questa è una validazione fatta dall'html nel browser e quindi i valori che inserite qui che non sono validati non vanno non proseguono non vanno avanti sul server ci rimane fermi in quella pagina nel browser e questi sono gli input principali e dopodiché associato all'input c'è ci dovrebbe essere sempre un elemento che si chiama label che è un'etichetta che rappresenta una caption che rappresenta un sottotitolo che rappresenta appunto l'etichetta per l'input che segue come fa a capire come si fa questo collegamento tra il label e l'input che segue annetto del fatto che segua si crea attraverso l'utilizzo dell'id e del for quindi l'input avrà un id in questo caso cheese e l'etichetta per l'input cheese userà questo attributo che è for questo non è tanto importante per leggere perché questo potrebbe anche essere un paragrafo essendo un'informazione che noi leggiamo e non un'informazione che noi inseriamo ma è importante per motivi di accessibilità perché per motivi di accessibilità con uno screen reader per esempio cliccando sul label si attiva la checkbox corrispondente cosa che invece chi ha una visione tipica può cliccare direttamente sulla checkbox e non va a cliccare sul testo se questo invece fosse un paragrafo non si può cliccare sul paragrafo perché è una stringa di testo qualunque quindi ogni input va associato con un label che è legato all'input attraverso l'id dell'input e il for del label il cui contenuto deve essere uguale e quindi si crea questa associazione in html automaticamente e questo ovviamente non vale solo per il screen reader ma vale anche per il touch per cui se questo checkbox è troppo piccola anche se non si riesce a selezionare esattamente se c'è una label si può cliccare sull'etichetta di testo e si seleziona la checkbox automaticamente altri controlli di form oltre l'input che è ovviamente quello più utilizzato ed è più multipurpose diciamo c'è la text area che di nuovo per inserire del testo su più righe quindi testo lungo che può avere tre stati lo stato di default lo stato col focus quindi evidenziato col bordo o lo stato disattivato e qui iniziate a vedere una caratteristica problema dipende dal punto di vista di questi di questi elementi di controllo dell'html che vengono renderizzati in maniera diversa rispetto dal browser che lo visualizza che li renderizza quindi questi sono tutti la stessa text area di default qualcuno è più piccola qualcuno è più grande qualcuno è più alta questa è la stessa text area di prima col focus qualcuno è un focus blu qualcuno viola questo ha solo un bordo livamente più spesso questo ha anche un questo è un azzurrino questo è un altro colore eccetera e questo è la stessa text area disabilitata quindi tutte queste hanno uno sfondo grigio verdognolo eccetera questo i primi due hanno il testo il colore del testo è ovviamente cambiato quindi questo è una cosa che capita tanto con i controlli del form che l'aspetto estetico è dipendente dal browser perché esistono da tanto tempo è fortemente dipendente dal browser e dargli lo stile a questi elementi è estremamente complicato personalizzare lo stile col CSS a questi elementi è molto molto complicato è tutto fattibile però non è non è aggiungendo una classe a una checkbox che si cambia il colore della checkbox per esempio o lo stile della spunta bisogna scrivere il giusto codice CSS per farlo questo vale per quasi per tutti praticamente i form di input e un altro form di input è il drop down il menu tendina che si realizza con il tag select e poi all'interno può avere o delle option direttamente che sono le opzioni che è andata a selezionare e queste option possono essere raggruppate in gruppi di opzioni che è questo opt group che hanno un'etichetta che è quella che viene visualizzata ovviamente il gruppo delle opzioni non è un qualcosa che si visualizza fruits non si seleziona si seleziona invece il contenuto le opzioni vere e proprie quindi questo opt group potrebbe anche non esserci in un drop down e l'elemento selezionato attributo selected quindi che sia quello pre-selezionato quello che selezionate si dà l'attributo selected in maniera analoga all'active sempre di prima poi c'è il button che quindi ben detto c'è l'input type button l'input type submit ma c'è anche il button e basta e il button type submit dove il button type button si può mettere il type button è un bottone il cui comportamento bisogna definirlo in javascript perché se no è un bottone che si clicca e non succede niente oppure può essere un bottone di submit e un bottone di reset all'interno di un form oppure poi ecco non succede niente a meno che non si metta il bottone all'interno di un link e allora a quel punto cliccando il bottone come se si clicasse il link oppure il bottone all'interno di un form può essere di tipo submit o di tipo reset di tipo submit resetta tutti i contenuti del form tutti gli altri campi input di quel form quindi tutti questi sono all'interno di un tag form per funzionare in questo modo altrimenti non ha effetto oppure se di tipo submit dice che quello è il bottone che si utilizza per inviare tutti i dati del form con il metodo scelto alla url scelta all'interno del tag form quindi è il bottone login è il bottone registrati sono tutti quei bottoni lì sono tutti di tipo submit ora ovviamente come vi dicevo esiste sia il button tag button che il tag input con tipo button sono equivalenti per la maggior parte delle cose input type button è più vecchio button è più moderno è stato introdotto da HTML5 e essendo più moderno capita anche che sia più flessibile nel senso che in un button si può per esempio mettere un'immagine si possono aggiungere delle classi per cambiare lo stile mentre in un input type button queste cose non si possono fare quindi per esempio Bootstrap utilizza tutti i bottoni che utilizza sono suggerisce di utilizzarli e lui internamente lo utilizza come tipo button perché ha lo stesso effetto dell'input type button ma è molto più flessibile quindi fa tutto quello che fa l'input e anche di più e quindi si preferisce oggigiorno di usare il button l'altro esiste si può utilizzare ma il button permette di fare più cose tra cui mettere un'immagine all'interno cambiare la dimensione cambiare i colori eccetera come in questa slide questo è quello che vi dicevo poco fa che come un form appare in un browser dipende fortemente dal browser questi sono altri tre esempi di le stessi campi default focus e disabled quindi la stessa pagina html visualizzata in quattro browser diversi allora cambia il colore del focus qui aggiunge una x che qui non c'è per svuotare il campo questo ripeto è disabilitato evidenziando tutto di grigio questo no quindi e questo capita anche per esempio con gli elementi nuovi come il calendario in alcuni browser la data in alcuni browser c'è l'iconcina per vedere tutta la data in altri browser no in alcuni browser la data che si vede nel forum è quella del vostro quella impostata sul computer nel formato impostato sul computer quindi giorno, mese, anno per esempio in altri browser invece è default quindi anno trattino mese trattino giorno oppure nel formato americano perché invece invece di agganciarsi al magari alla data come formattato sul computer si aggancia alla lingua e se avete un computer in inglese si aggancia al formato utilizzato per quella lingua e questo varia da un browser all'altro quindi alcuni problemi rimangono con gli input altri si possono esorbere con il CSS con un po' di fatica dipende quanta fatica se uno vuole fornire a tutti i browser la stessa visualizzazione lo stesso stile e le checkbox sono un esempio di quelle che sono difficili da gestire e altri non si può proprio per esempio il file non può essere neanche in maniera l'input file per caricare un un documento non si può stilizzare col CSS la checkbox è difficile la radio button è difficile ma si può non applicando una classe ma lavorando di più e il file non si può comparirà sempre un bottone nello stile del sistema operativo che aprirà una finestra che è quella del sistema operativo per caricare il file quindi non si può personalizzare quello stessa cosa il calendario il calendario l'input type date di default non si può personalizzare quello che si fa se si vuole avere più coerenza estetica a livello di CSS con i vari input è non usare le o non usare i componenti default ma utilizzare delle librerie dedicate per esempio ci sono librerie per creare un input equivalente di tipo calendario di tipo data quindi non usare l'input type date ma utilizzare un componente diverso che ha un tag diverso che si porta con sé l'elemento calendario e se lo porta con sé in maniera uguale indipendentemente dal browser che si sta utilizzando alcune cose quindi queste librerie utili possono farlo e possono anche migliorare accessibilità in alcune case alcune librerie bootstrap per fare un esempio ha delle checkbox che sono diverse da quelle standard se si usano le checkbox come le fornisce bootstrap questo perché loro applicano già questo stile particolare per renderizzare correttamente una checkbox e ovviamente in bootstrap ci sono tutti tutti i componenti del form che sono renderizzati e anche il form ha delle caratteristiche quindi si può mettere una linetta sotto tra il titolo ci sono proprio delle classi per rendere il form più più carino ci possono essere delle etichette che sono flottanti quindi non sono statiche in certe posizioni eccetera collegato al required minimum maximum a quegli attributi lì c'è un concetto che è fondamentale da tenere presente che è la validazione del form ora dato che il form tipicamente manda informazioni a server e il server quelle informazioni se le memorizza da qualche parte voi non volete che per esempio qualcuno inserisca in un campo di testo nome una stringa python il codice python che nel browser è testo ma che quando viene letto dal vostro server agisca come python oppure un'istruzione sql che cancelli una tabella drop table quindi io scrivo invece di nome scrivo drop table e quando viene poi inserita nel database il database lo legge come istruzione e quindi esegue drop table queste cose sono cose che uno non vuole che capitino e quindi è fondamentale nei form validare le informazioni che vengono passate non solo attraverso minimo maximum require di pattern eccetera che si serve che è questa client side validation quindi la validazione delle informazioni prima che i dati lasciano il browser ma anche poi nel server bisogna sempre fare una doppia validazione una validazione dei dati nel form ok questo deve essere un numero tra 0 e 30 è un numero type in type number e tra 0 e 30 min 0 max 30 obbligatoriamente ma poi anche quando ricevo queste informazioni su server andrò a verificare se ho davvero ricevuto un numero e se è davvero quel numero è tra 0 e 30 quindi rifarò dei controlli onde evitare interventi manipoli onde evitare che un'altra pagina mi mandi l'informazione al mio stesso server quindi la validazione del browser ci serve perché vogliamo avere i dati corretti nel formato giusto di nuovo l'esempio della data se noi nel nostro server abbiamo vogliamo le date nel formato anno, mese, giorno ma il nostro form le passa nel formato giorno, mese, anno oppure anno, giorno, mese e noi non facciamo nessun tipo di controllo andremo a salvare delle date sbagliate delle date in cui il mese sarà 31 che non può esistere quindi dobbiamo validarle comunque nel client onde evitare di poi dover andare a capire qual è il problema dopo un mese nel server vogliamo anche proteggere in alcuni casi le informazioni delle persone per esempio vorremmo che la password non sia vuota o che non sia di un carattere o che la mail sia scritta come una mail quindi qualcosa chiocciola dominio per cui esiste l'input type email anche quindi vogliamo assicurarci che i dati siano nel modo corretto e ovviamente vogliamo anche per proteggere come vi dicevo i server iniziare a proteggere i server da informazioni che possono essere sbagliate e la client side validation è importante ma in ogni caso nel server bisogna essere come quando si parla quando sempre quando si parla di sicurezza o spesso quando si parla di sicurezza bisogna non fidarsi quindi quando i dati arrivano da un client un server se sono dati sensibili se sono dati che devono essere memorizzati deve ricontrollarli in questo caso non fidandosi del client questo capita questo è importante in questo tipo di applicazioni web che stiamo facendo noi che quindi in cui il server genera le pagine ma diventa fondamentale nelle applicazioni web di generazione più moderna come le single page application in cui il server in realtà riceve dati e invia dati e non riceve pagina html e non invia pagina html e quindi chiunque può mandargli quei dati non solo una pagina html anche un'applicazione mobile potrebbe mandargli quei dati e quindi non ci si può fidare del client specifico perché non si sa quale sia il client per quel server quindi ripeto per noi è importante fare la validazione sia client-side che server-side in applicazioni più moderne non è solo importante di più fare la validazione server-side e ci sono due tipi poi arriveremo alla validazione server-side quando parleremo del server di come il form arriva su server ci sono due tipi di validazione client-side una è quella di default che abbiamo visto in html con minimo massimo eccetera e o con appunto il numero l'output required quindi se il campo è required ed è vuoto non può essere inviato il browser lo blocca è html direttamente che dice no eccetera e poi si può anche fare e lo vedremo brevemente quando faremo javascript si può anche fare la validazione con il javascript in aggiunta alla validazione che fa l'html quindi già lì andare a prendere i valori magari che sono validi non so l'email noi vorremmo l'email accettare un'email solo se è studenti.polito.it e non se è gmail.com allora il campo html ci dice questa è una mail o questa non lo è però che sia gmail.com o studenti.polito.it è una mail sono due mail possibilmente valide allora noi potremmo nel client andare a dire ok ma gli ultimi caratteri sono studenti.polito.it appurato che è una mail andare a fare validazioni più di fino ovviamente nel client ma anche poi possiamo fare le stesse validazioni nel server quindi per ora utilizziamo quelle built in min max pattern type type number type email eccetera type password eccetera eccetera poi vedremo anche quando impareremo javascript che possiamo usare javascript come linguaggio di programmazione per fare anche quel tipo di validazione magari non lo faremo in quel momento la validazione ma una volta che sappiamo il linguaggio possiamo anche utilizzarlo per controllare il form prima di inviarlo al server ecco e le validazioni form built in sono quelle che abbiamo già visto come required min max come type come pattern se non vuole stabilire un'espressione regolare per un certo campo di testo ovviamente e anche min length e max length che vale per tutti i campi di testo quindi password testo normale eccetera eccetera quindi questi sono gli attributi principali che uno può utilizzare e può usarli anche insieme ovviamente uno può avere un campo di tipo numerico con un min che è required o un campo di tipo di testo che ha un pattern una lunghezza minima una lunghezza massima ed required questi si possono combinare al bisogno inoltre quando l'elemento è valido se uno vuole personalizzare anche l'aspetto esteriore il CSS definisce un pseudo un pseudo attributo che è valid e invalid che permette di personalizzare l'estetica dei campi di input a seconda del fatto che queste validazioni abbiano successo oppure falliscono per cui se queste validazioni hanno successo quindi un campo di testo è required di minimo otto caratteri allora il browser applica la pseudo classe valid se no applica la pseudo classe invalid che di default in un browser non hanno stile quindi non si vede una differenza o in default nella maggior parte dei browser non hanno stile ma si può anche personalizzare andando nel CSS a intercettare l'invalid e dire per esempio che l'invalid ha un bordo di due pixel tratteggiato rosso come in questi casi e se invece è valido il bordo diventa nero quindi quando l'indirizzo mail è vuoto non è valido perché non ha mail se scrivo a chiocciola non è valido se scrivo a chiocciola p.it ovviamente è valido a chiocciola p è valido o non è valido? a chiocciola p senza .it e senza .com è valido o non è valido? sì o no? per la sintassi di una mail a chiocciola p è valido senza punto tipo S 27 42 39 chiocciola studenti punto pulito o chiocciola pulito come sintassi? come sintassi come sintassi ha senso quindi un campo di tipo input type email vi dice che una mail nome chiocciola dominio senza .it senza .com è valida perché in realtà le mail nascono anche per le comunicazioni tra server e quindi una mail nome chiocciola localhost che è un dominio localhost è valido e quindi la mail rispetta questo questo campo input rispetta questo poi se uno vuole deve aggiungere un'alteriore validazione per dire ok ma mi serve solo pulito.it allora vado a verificare che sia pulito.it quindi questo è una validazione che il built-in non ti dà perché lui controlla se l'indirizzo mail è valido secondo lo standard e sì perché nome chiocciola qualcosa chiocciola dominio e il dominio non è richiesto che abbia un .it un .com un .org può essere localhost è un dominio valido per fare un esempio e un nome presso un dominio e quindi questo campo vi direbbe che è valido anche nome chiocciola localhost anche se non ha un .it sta poi a voi fare il controllo ulteriore in javascript per esempio se si vuole fare client-side o su server che la mail se vi serve una mail formattata correttamente con un certo dominio sia con un certo dominio con estensione diciamo sia effettivamente quella che vi serve domande allora giovedì guardiamo come prendere questi form in html magari ne costruiamo uno all'interno della nostra pagina e come li gestiamo in flasca buona serata a tutti grazie